Il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la richiesta del Ministero dell'Interno di dichiarare l'incandidabilità di Paolo Mascaro, sindaco in incarica di Lamezia, all'epoca in cui nel novembre dello scorso anno il Comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Lo stesso Tribunale ha accolto invece la richiesta di incandidabilità che il Viminale aveva presentato per l'ex Vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Paladino e per il Consigliere Comunale Pasqualino Ruberto, già candidato a sindaco. Paladino e Ruberto sono stati coinvolti nell'inchiesta a Crisalide condotta dalla DDA di Cadanzaro. Qui ci sono enormi potenzialità inespresse che hanno bisogno di risposte certe sul piano istituzionale. Lo ha detto il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, parlando con i giornalisti al termine della visita nel porto di Gioia Tauro, nel corso della quale ha incontrato i terminalisti e i rappresentanti dell'autorità portuale dei lavoratori. Questo è un porto importante, ha aggiunto Lezzi, che ha tutte le potenzialità per diventare attrattori di investimenti. Gli investimenti però devono essere garantiti in primo luogo dagli operatori che vi lavorano. Altro punto su cui occorre lavorare è la definizione di un progetto per l'utilizzo del retroporto nel quale occorre tentare di avviare insediamenti produttivi legati alle vocazioni di questa regione, in particolare l'agroalimentare. Come centrodestra non temiamo la conclusione anticipata della legislatura. Se il Presidente della Giunta prende atto che non può più andare avanti, si può votare già a novembre. Lo dice il capogruppo della Casa delle Libertà in Consiglio regionale Gianluca Gallo all'Aggi con riferimento all'attuale fase politica alla regione. Stiamo vivendo, aggiunge Gallo, la fase forse peggiore del regionalismo calabrese perché in questo momento non esiste praticamente una maggioranza all'interno del Consiglio regionale e questo per responsabilità del Presidente della Giunta Oliverio, che non è solo il governatore della Calabria ma è anche il responsabile politico della tenuta e dell'unità della maggioranza. Sul fronte della spesa relativa ai fondi UE, la Calabria è fra quelle regioni virtuose che non rischiano di perdere risorse, avendo attivato tutte le misure ed essendo in linea con gli obiettivi prescritti per il 2018. A darne riconoscimento ufficiale è stata ieri il Ministro Barbara Lezzi e il fatto che la certificazione del buon lavoro compiuto dal Presidente Oliverio, dalla Giunta e dalla maggioranza consigliare, venga da un esponente dell'attuale Governo nazionale, rende giustizia rispetto a tanti giudizi affrettati e poco informati. E quanto afferma in una nota il Consigliere regionale Domenico Bevacqua, Presidente della Quarta Commissione consigliare. Di certo il cammino resta impervio, prosegue Bevacqua, ma i passi in avanti compiuti sono fatti oggettivi. Il Sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro dell'EPD, ha rassegnato le sue dimissioni. Il Sindaco ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Comunale in cui si legge che, in considerazione delle assenze dei consiglieri comunali che sostengono la maggioranza, alla seduta del Consiglio Comunale per la data odierna, dopo attenta riflessione nel rispetto del ruolo istituzionale che ricopro e dei cittadini che mi hanno conferito il mandato, rassegno le mie dimissioni nell'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico ed a favore della comunità amministrata. Belcastro ha adesso 20 giorni per, eventualmente, ritirare le dimissioni. Erano nascosti in un casolare nelle campagne di Giovinazzo due pregiudicati pugliesi latitanti dallo scorso 20 aprile, quando sfuggirono alla cattura nell'ambito di un'operazione della DDA di Catanzaro nei confronti dei presunti responsabili dell'assalto alla cavo Sicur Transport avvenuto il 4 dicembre 2016. Il 37enne Alessandro Morra di Cerignola, ritenuto uno degli organizzatori del colpo, e il 49enne Pasquale Pazienza di Bitonto, sono state arrestate all'alba dopo l'irruzione degli agenti della squadra mobile di Bari con i colleghi di Foggia, Catanzaro, del servizio centrale operativo, con il supporto dei reparti prevenzione crimine del reparto volo della Polizia di Stato. Le indagini della DDA di Catanzaro, avviate dopo il colpo armato alla cavo, hanno consentito in pochi mesi di identificare i responsabili. Gli assalitori arrivarono in tute mimetiche armati di Kalashnikov, riuscendo a portare via un bottino di circa 8 milioni di euro. Potenziare e tutelare il patrimonio naturalistico e ambientale del parco della biodiversità è questo l'obiettivo del protocollo sottoscritto questa mattina dall'amministrazione provinciale di Catanzaro e dal Club Alpino Italiano, una convenzione quadro che sottolinea l'impegno per la valorizzazione del polmone verde della città, grazie alla quale sarà costituito un gruppo di lavoro che svolgerà un'azione propositiva sui programmi di sviluppo dell'accordo e garantirà il coordinamento delle attività di collaborazione tra Ente e CAI. Oggi serviamo una convenzione per incentivare la collaborazione con un'associazione molto importante nel panorama della salvaguardia ambientale del Paese. Quindi noi con il CAI questa mattina stipuliamo una convenzione che ci consente di avere un supporto importantissimo, tecnicamente importantissimo che ci consente di mappare tutti i sentieri, che ci consente di organizzare un sistema della viabilità all'interno del parco capace di poter valorizzare anche i punti d'eccellenza che abbiamo nel parco. Voi sapete che è un parco di 8 ettari, quelli adibiti a giardino e a macchie di biodiversità importante, poi abbiamo altri 60 ettari di macchie mediterranee vere e proprie. Quindi una organizzazione capace di poter valorizzare questo enorme patrimonio che noi abbiamo al parco. Quindi oggi per noi è un momento importante perché nel parco concentriamo una serie di interessi importanti e fondamentali. Quindi benvenga la collaborazione anche con associazioni ambientaliste che ci consente sempre di più di mettere al centro una delle strutture più importanti e più belle d'Italia. Il club alpino italiano è nato nel 1863 per far conoscere e chiaramente preservare l'ambiente montano. Anche a Catanzaro abbiamo un ambiente montano che è quello del parco della biodiversità che a cura dell'ente parco e a cura di noi soci CAI viene tutelato, viene manutenzionato, verrà effettuata la tracciatura mediante le bandierine bianche e rosse del CAI o cosiddette bandierine internazionali in modo che ciascun cittadino, anche senza guida, possa percorrerli in tutta sicurezza perché la nostra prima voglia è quella di far partecipare tutti, anche chi non è capace, alla frequentazione in sicurezza, ripeto in sicurezza, della montagna. Tanti cittadini, fedeli, consiglieri comunali ed esponenti delle forze dell'ordine e gruppi folclorici della Proloque dell'Associazione Culturale Città di Castrovillari, presenti alla cerimonia di riapertura della strada che porta al Santuario della Madonna del Castello a Castrovillari. Il taglio del nastro ad opera del Vescovo della Diocesi di Castano all'Oionio, Monsignor Francesco Savino, del Rettore del Santuario, Don Carmine de Bartolo, del Sindaco della città, Mimmo Lopolito e dell'Assessore regionale, Roberto Musbanno. Un momento importante che rende fruibile nuovamente è un'arteria che conduce ad uno dei luoghi di culto più importanti della città, che da bene sei anni era rimasta interdetta al traffico a causa di una frana che aveva colpito il colle, su cui si erge il Santuario Mariano. Un ruolo importante nella ricostruzione della strada l'ha avuto Don Carmine de Bartolo, che non si è mai arreso all'isolamento del santuario. Oggi veramente il santuario è un punto di riferimento per la gente che soffre, per la gente che ha bisogno, per la gente che specialmente ha dei problemi e penso che se veramente alla Madonna gli affidiamo i nostri problemi, lei farà un incontro e ci darà questa speranza, questa gioia, questa pace di rio. Abbiamo lavorato tutti ed oggi riapriamo la strada con tanto entusiasmo a ferma Lopolito, che ha voluto ringraziare coloro i quali si sono adoperati in questa direzione. Oggi davvero possiamo dire che le istituzioni lavorando insieme hanno raggiunto un grande risultato, ma per la città, per i fedeli, per l'importanza che riveste da un punto di vista storico e religioso il santuario della Madonna del Castello per tutti i cassioli da adesso. Quando si lavora insieme i sogni diventano realtà, così il vescovo della diocesi di Cassano all'Oionio, Monsignor Francesco Savino. La gioia perché questa sera noi stiamo scrivendo una pagina bellissima di sussidiarietà verticale. Il comune, la regione e la chiesa insieme hanno dialogato faticosamente. Alla fine siamo riusciti a pervenire ad una conclusione e questa sera apriamo la strada. Il percorso che sale al santuario è stato impreziosito da dieci murales realizzati da artisti locali che hanno preso parte ad un concorso. Il primo premio di 500 euro è andato ad Antonio Oliva di Rende per l'opera che appare nella nicchia numero 10, ricca di contenuto, storia e tecnica. Grazie.